I primi tre consigli che fornisco a chi si sta avvicinando seriamente al mondo della color grading sono sempre gli stessi tre. Prima di tutto crearsi una postazione di lavoro che permetta una postura comoda e corretta. Due, acquisire la piena consapevolezza che il lavoro fatto nella nostra color bay lo vedremo solo noi e il direttore della fotografia o il regista e il produttore seduti al nostro fianco. Il film che abbiamo lavorato apparirà come sul nostro monitor, solo ed esclusivamente sul nostro monitor, collocato nella nostra color suite con le nostre luci. Una volta distribuito, il film assumerà una miriade di aspetti diversi in base allo strumento utilizzato per riprodurlo e alle condizioni ambientali in cui tale strumento sarà impiegato. Accettare serenamente questa realtà è indispensabile per la salute mentale del colorist. Tre, fare sessioni brevi. In questo video ci concentriamo sul terzo punto, a partire da un semplice esperimento visivo volto a mostrarci come risponda nei nostri occhi all'osservazione prolungata di un'immagine. Questo per dimostrare quanto sia importante per la buona riuscita del lavoro di color, è vitale di trascorrere ore e ore davanti allo schermo senza pause. E ancor più, quanto sia improduttivo, lavorare su un singolo frame per lungo tempo. Dal momento che più restiamo a fissare un'immagine, meno i nostri occhi risultano affidabili. Non servono ore, bastano secondi. L'esperimento. In questa immagine abbiamo un cerchio rosso, RGB25500, e un cerchio grigio chiaro, RGB233. Quindi nessuna dominante cromatica, grigio neutro. Ho evitato il bianco giusto per tenere un po' più bassa la luminosità. Ora vi invito a fissare per alcuni secondi, vi dirò io quando distogliere lo sguardo, il punto nero al centro del cerchio rosso. Mi raccomando, concentratevi solo su quel punto, non vagate con lo sguardo. In questo modo saranno sufficienti pochissimi secondi per ottenere l'effetto desiderato. Quello che state facendo in questo momento, se state seguendo le mie indicazioni, è affaticare un particolare gruppo di coni dei vostri occhi. State sottoponendo a uno stress test i vostri fotoricettori dedicati alla percezione del colore rosso. Tanto che al termine dell'esperimento, questi coni avranno bisogno di tempo per riequilibrarsi. Vi serviranno diversi secondi affinché possiate tornare a vedere il bianco. Inizialmente ciò che vedete sarà una sorta di negativo dell'immagine che stiamo fissando. Più tempo farete durare lo stare down, più evidenti e prolungate saranno le conseguenze dell'esperimento. Ok, ora guardate il cerchio grigio, che per un po' non vi apparirà affatto neutro. State sperimentando il fenomeno dell'immagine residua, anche detta immagine persistente. Questo consiste nella percezione ottica di un'immagine che persiste dopo che la fonte originale è stata rimossa, apparendo come una versione invertita o complementare dell'immagine originale. A tutti sarà capitato di staccare dopo una lunga sessione di lavoro, credendo di aver raggiunto un buon risultato, di tornare allo schermo dopo qualche minuto e di trovarsi di fronte a un'immagine radicalmente diversa da quella che si ricordava, in genere affetta da un'invasiva dominante cromatica apparentemente impossibile da trascurare. Questo accade perché col tempo il nostro sguardo si era desensibilizzato alla percezione di quel colore. In conclusione, non solo è inutile distruggersi gli occhi fissando lo schermo senza interruzioni per ore, ma va anche a detrimento del lavoro. È un fattore biologico insormontabile. Quindi, sessioni brevi e variegate. Si lavora un po' sulla clip e si passa oltre, sapendo che ci torneremo dopo con sguardo fresco. Il consiglio in genere è quello di seguire la regola del 30-30-30, ossia di staccare ogni 30 minuti per andare a guardare qualcosa da almeno 30 metri di distanza per almeno 30 secondi. Come sappiamo, fare una pausa ogni 30 minuti nel nostro lavoro è un po' improponibile, ma possiamo comunque cercare di avvicinarci a una disciplina simile, quantomeno evitando di passare 4 ore filate davanti uno schermo. A questo punto vi auguro una piacevole passeggiata, un buon rientro e un buon lavoro. Alla prossima!